Ciao a tutti, qua è GameStar News e benvenuti all'unboxing di Dead or Alive Scusate, questa era la gag per Leo così si cagava addosso Leo non la giro perché dietro è distrutto, per cui facciamo l'unboxing, so del davanti Questa è la Collector Edition di Dead or Alive 5 La versione di Leo, se non si racconta La versione di Leo E come mi riprendo a bere? I'm a fighter Dunque, cosa includi? Innanzitutto c'è la scatola di metallo, copia del gioco E Artbook, esclusivo, in brossura Cosa vuol dire? Tia, brossura? Vabbè, cartonato Il DLC con i costumi da bagno premium, per tutti i personaggi femminili, il sito della colonna sonora e il poster Ci ha raccomandato di non far vedere il codice, quindi stai attento, mi raccomando Non vorremmo che qualcuno non approfittasse Guarda Leo come sono bravo, che te l'aveva detto? Dai che dai, rotto quell'altra, dovremmo ridare E che Leo è un perfezionista, se gli faccio un segnato si incazza Eccoci qua Non ce la posso fare? Cazzo mi intimorito No, rompile, dai, non importa Tanto, non ho voluto venire a prenderlo subito, se la prenderà rotta Per vedere che è metallo, prova a sbatterci conto Prendi la calamita Ce l'ho, ce l'ho la calamita Si È puro metallo No, è caduta Questo è il gadget Dai, basta, basta Leo se c'è qualcosa è colpa di tia Non è vero Questa è una mutanda che viene fuori Non mi uscire troppo dall'inquadratura Facciamo la mutandina qui Così facciamo un po' di coreografia Questa è una mutanda La birra la tiriamo via La birra Sicuramente Da una parte il logo, dall'altra parte la scritta Beh, con l'abellina Viene l'artbook L'artbook Arma Fighter sempre Molto un po' di Sede della level 5 Un po' di domine Appena appena l'artbook Ecco, sono degli uomini Dai, basta, su Mi dispiace Vi fa vedere poche tette Un po' minimalista Perché è piccolino È orrenda Leo No, a parte gli scherzi Per adesso è ben fatta Queste cose qua Sono sempre quelle che non vengono fuori Non prendere paura Ma... Non so quel che faccio Ehehe Non tragis a tomba Ma cosa fai qui? Ah, metto qua dentro eh Si, gira Ah, che rola Gira con violenza Ma io proprio lo sgudellato Vabbè, la confezione è questa Arrivando al posto Vabbè, questo qua è il... Infusione Dai, ma che cazzo di cameraman sei? Quello del sound Eh, mi distrae Colonna sonora Vediamo la domanda Lo scappo Non scapparmi con i brani Qui c'è il... Un po' di zuzzola Beh, 20 brani Il gioco adesso andiamo ad aprire No, facciamo vedere prima il poster C'è anche il poster? C'è anche il poster C'è anche il poster Facciamo vedere Facciamo vedere Un unboxing ass e non lo apriamo Questo è il codicino Tattattattà Eh, tanto lo mettiamo in descrizione il codice Ok Non ti preoccupare dell'avere in descrizione Eeeh, basta Vuoi aprire il gioco? Beh, ok Facciamo un unboxing ass e questo E basta Mi dobbiamo rigare il disco Poi lo richiediamo Poi... Ah, cazzo L'ho scoperto Ah, cazzo è vero che te non vuoi che usi i coltelli però In certi casi In incisione Non comodo Intentiamo non affettare il cameraman che è qui dietro C'è la linguetta, comunque la vedo dalla telecamera Ah, è qua Linguetta che ho scritto PS3 FK Ah, tutta la plastica tagliata Povero Leo Lo riporta dentro come usato Ah, eccoci qua Vi apro il servitivo Eccolo qua Bellissimo È una fantasia questa Enna Fighter Che devo dire L'avrei scritto un po' più volte Questo gioco qua probabilmente l'ha comprato Solo Leo in tutta Italia Oh, cazzo C'era... Non si viste niente Un pass online Ah, un line pass No, a Libia che ci mettiamo un quadratino Giustamente c'era un line pass Sì C'era 10 quadratini per te per coprirlo Ok Ricomponi un po' qua Vediamo come era Era così Se non lo sbaglio Imposter La colonna sonora andava prima anzi Andava sotto Anzi Andava sotto Il reverse L'unboxing al contrario Come chiudere un unboxing Eh, voilà Ho dimenticato la birra C'era anche la birra Però non c'è più la plastica adesso Forse è meglio di me Cazzo Possiamo riparare così Con questo era tutto Allora